La cosa che facciamo è come potete vedere qua dietro, sono tutti spettacoli molto diversi del spettacolo alla base con una ricerca nella musica, nelle parole della musica, nella coreografia, nei costumi come si può vedere e se possiamo fare un tocco un po' estremo completamente diverso dalle altre ne approfittiamo anche. Perfetto, chiamiamo qui anche lui che anche se non parla l'italiano ci fa compagnia, ciao! Lui è Eddie, mio partner, facciamo anche film, siamo in giro per l'Italia sperando di trovare qualcuno che è appassionato come noi per il spettacolo. Lui vedendo un film inizia a dirmi ma sai si potrebbe adattare come in spettacolo? Era il fantasma dell'opera, dopo ho sentito una musica che era giustamente quella che andava con il fantasma dell'opera e siamo andati su questo. Questo è il primo bambino, dopo è stato Dracula, c'è Luna di Fiere, ci sono tanti spettacoli che... Quindi a secondo del tema avete uno show particolare? Sì, anche secondo la domanda, perché basta che la gente chiede questo spettacolo o un altro, perché ci sono alcuni che non si vedono qua e che sono neanche sul sito perché sono per gente completamente diversa, nel senso che più feticista, più... Sì... Penso di sì... Allora chiudiamo facendo vedere la schiena... Va bene... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.